È un lento ritorno alla normalità per l'Ossola, dove però non tutti i problemi di fornitura elettrica sono stati risolti, ma la situazione resta sotto controllo. E nell'ha comunicato alla provincia che entro la serata il 90% delle utenze torneranno attive. Sono più di 36 ore che tante famiglie nelle valli sono senza elettricità e senza riscaldamento. A Macugnaga, già affollata di turisti, è tornata la corrente elettrica, ad eccezione della frazione Fornarelli e di uno spicchio del centro paese. Per queste due zone l'attivazione di un generatore. Ringraziamo la protezione civile provinciale con Stefano Barassi, che la scorsa notte è sceso a Torino per recuperare il generatore, poi giunto a Macugnaga alle 3. Il direttore della protezione civile regionale, Ingegner Coccolo, la ex Tessenderlo e la provincia di Celvice, sindaco Paolo Grammatica. È stato invece necessario sollecitare Eni, la giunge. Riaperta già stamattina la strada della Valle Anzasca, l'emergenza è rientrata. Lo ha stabilito la Commissione Valanghe dopo la riunione di ieri sera. L'arteria è transitabile con catene a bordo o gomme da neve. Corrente è tornata anche avanzone. Più laboriosa invece è la situazione per Ceppo Morelli, ma anche in questo caso c'è stata una soluzione positiva. Sarà riaperta domani la strada per San Domenico. Si lavora alla cremente per lo sgombero delle piante. Proprio per non intralciare questa attività, la decisione di posticipare ulteriormente la riapertura dell'arteria, riferisce l'assessore provinciale alla viabilità Gian Paolo Blardone. La corrente dovrebbe essere ripristinata attraverso il collegamento a due cabine di gruppi elettrogeni. Una trentina le persone ieri bloccate nella frazione di Varzo. Alcune sono scese in giornata, altre sono rimaste e già alloggiavano all'albergo Cuccini, dove sono stati radunati frazionisti e turisti nell'emergenza di Santo Stefano. Un'altra giornata di blackout elettrico in Valle Vigezzo, in particolare a Craveggia, Villette, una parte di Malesco, una piccola porzione di Santa Maria Maggiore. Stiamo lavorando per tornare alla normalità, dice il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini, ma occorre avere un po' di pazienza anche per lo sgombero neve. La coltre è pesante e nella notte si è trasformata in ghiaccio duro come il cemento. Resta ancora chiuso il passo del Sempione, come nella giornata di ieri, ai cui si riferiscono le nostre immagini, si sono formate code di auto in attesa della navetta, che peraltro proprio a Santo Stefano ha anche interrotto il servizio per diverse ore. Resterà ferma ancora per alcuni giorni e non c'è la certezza che si possa ripristinare entro il 31 dicembre il servizio lungo la ferrovia Vigezzina. Gli alberi caduti hanno agganciato in diversi punti la linea elettrica e occorre molto lavoro per tornare alla normalità. Da domenica attiva un servizio sostitutivo con autobus a tutte le info su www.vigezzina.com. È stata riaperta la normale viabilità alla strada statale 659 delle valli Antigorio-Formazza nel tratto tra Crodo e Baceno. La viabilità era stata deviata ieri sulla provinciale di Mozio, sempre per la caduta di piante che ingombravano la carreggiata. Stesso discorso per le strade dell'Usentino e per quella di Bognanco. Permangono ancora problemi su alcuni tratti, occorre intervenire per terminare la pulizia ma sono percorribili dai veicoli in alcuni casi con un senso unico alternato a causa di tratti di carreggiata ancora occupati da rami. Chiusura solo temporanea oggi anche per la strada della Valle Antrona. Piccoli smottamenti ma con viabilità ripristinata sono stati segnalati anche a Cicogna e poi in Valle Strona e ai tre ponti a Verbagna dove ha ceduto un muro di contenimento con terra e pietre che si sono riversate su una delle due corsie della carreggiata. Ancora chiusa la strada panoramica a Bavenolevo tra Stresa e Gignese, l'acqua eroso la scogliera su cui poggia la strada è aperto una voragine con un fronte di circa 20 metri ma compromettendone altrettanti. I tecnici della provincia che oggi hanno compiuto il sopralluogo non hanno constatato condizioni per consentire il transito in sicurezza. Si tratta di un intervento per il quale vanno recuperate risorse per intervenire non meno di 50.000 euro. Diverse le buche che si sono formate in superstrada, gli operai ANAS oggi sono intervenuti. È incessante il lavoro in questi giorni di protezione civile, AIB, Vigile del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Amministratori e tanti volontari e ancora tecnici Enel. È stata un'emergenza straordinaria che deve farci riflettere per un intervento preventivo, ha dichiarato il presidente del VCO Nobili e lo stesso ha aggiunto, dopo le feste programmeremo un incontro con Enel perché serve un dialogo maggiore con noi amministratori, non tanto a livello nazionale e regionale quanto con i rappresentanti locali dell'azienda.